Aspetta la seconda puntata dell'anno scorso, l'ha visto Sanremo? Se fosse stato un accarmesso di musica metal l'avrei visto volentieri. Musica metal? Sì. Aspetta, Domenico a Sanremo, qua la tua ospite, con la pastina, non so chi sia, faccio presente che qui c'è una ministra della Repubblica che ha appena dichiarato la sua passione per la musica metal. Non so cosa ne pensi la tua ospite, si chiama Fabiana Dadone, guida la funzione pubblica. Grazie alla ministra, la invitiamo a Sanremo a cantare la prossiotta. Cosa canta? Canzone preferita? Ah no, io non canto, suonavo la batteria anni fa ma non sono particolarmente intonata. Canzone preferita? La canzone preferita è una degli Inflames ma è proprio di super ricca. Va bene, a me piace Donizzi.